Buongiorno, ci troviamo qui al nuovo ospedale di Castelli, abbiamo effettuato una prova di training con il personale infermeristico, stiamo preparando il convegno che si terrà il 13 e il 14 di maggio qui al nuovo ospedale dei Castelli. Abbiamo effettuato oggi un impianto di protesi idraulica tricomponente, siamo pronti, stiamo aspettando ospiti internazionali di fama incredibile, ci sarà il professor Perito, ci sarà Ignazio Moncada, ci saranno tanti tanti colleghi Enrique Iedo che verranno a trovarci e condivideremo con loro una fantastica esperienza di chirurgia indiretta e di aggiornamento professionale urologico di urologia funzionale. Grazie, a presto! Grazie a tutti!